A settembre si torna a correre giostra, questo quanto deciso questa mattina dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura ad Arezzo. Presenti prefetto, sindaco, rettori dei quartieri, oltre alle forze dell'Ordine, 118 e Polizia Municipale, che hanno deciso che il Saracino sarà corso domenica 5 settembre dopo lo stop per tre edizioni, una ripartenza ovviamente con una lunga serie di prescrizioni. Gli spettatori che potranno assistere alla giostra in piazza, ovviamente distanziati, potranno raggiungere infatti il numero di 1.200 circa. Non saranno invece presenti i posti in piedi, ma nelle prossime settimane verrà valutata l'ipotesi di collocare una tribuna aggiuntiva per aumentare la capienza per assistere alla 140esima edizione della manifestazione. Per accedere sarà comunque necessario avere il Green Pass oppure essere in possesso di un tampone negativo fatto nelle ultime ore o della certificazione di avvenuta guarigione dal Covid. Cautele poi legate anche al corteo storico, che ci sarà in maniera tradizionale, con tutti i figuranti, ma che potrebbe essere chiuso al pubblico nella fase di Corso Italia. E poi accortezze all'estrazione delle carriere e misure da osservare anche per le cene dei quartieri, che potranno essere organizzate, ma con una serie di regole. Numero di persone al tavolo, massimo di 6, distanza tra i tavoli ed ovviamente divieto di ballo. Nei prossimi giorni ci saranno comunque nuove riunioni dove verranno definite le regole anche per il pre e dopo giostra.